Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server 2. Che cosa vuol dire Lords of the Fallen Expert Run? Sinergo, non hai ancora finito la tua prima run e fai già una Expert Run? In realtà, sì. Voglio fare questo, ma non chissà per quale motivo, perché mi sono reso conto che in mezz'ora di gameplay su Lords of the Fallen io non faccio molto. Faccio poco perché procedo con una cautela inumana e nonostante io sia molto cauto, schiatto di continuo, quindi potrebbe essere un po' frustrante per voi che guardate. E ho deciso di andare avanti per fatti miei con la mia prima run, quindi di farmi un'idea di come sono fatti i boss e di come è strutturato il mondo di gioco e via discorrendo. Però di fare parallelamente questa Expert Run nella quale non dovrei schiattare di continuo e quindi nel giro di una decina di minuti dovremo riuscire a fare un buon gameplay. O perlomeno in 10 minuti dovremo farne 50 della vecchia serie. È tutto come ho fatto all'inizio praticamente, il mio equipaggiamento non cambia. Utilizzerò sempre i pugnali piuttosto che martelli o asce e non utilizzerò scudi perché non è il mio modo di giocare, a me piace molto la velocità, quindi userò i roll. Non cambia nulla, ragazzi, cambia solo la magia perché qui ho deciso di utilizzare Rissa. Nella prima run ho utilizzato inganno. Rissa e inganno sono un po' opposte come magie, però voglio provarla questa qui. Non perché inganno non mi piacesse, mi piaceva molto, ma questa devo ancora capirla bene e per ora mi piace anche questa. Mi piacciono tutte e due le magie che ho provato. Ne sono tre, farei una terza run per provarle tutte, però insomma non ho tempo di farlo. Quindi i gameplay dureranno molto di meno e anzi mi metterò un limite di tempo di 10 minuti, ok? Faccio partire il cronometro e quando scade il tempo blocco il gameplay. Io adesso avvio il timer. Da ora ho 10 minuti per andare avanti nel gioco. Vediamo cosa riusciamo a fare in 10 minuti. Di sicuro schippiamo questa roba, di sicuro schippiamo questo tutorial. Vi spiegherò io cosa succede, cosa dobbiamo fare, senza che voi dobbiate per forza di cose leggere insieme a me i documenti che troviamo, magari scervellarvi a capire quel poco di lore che c'è in questo gioco. Gran parte del tempo qui lo si spende a combattere, quindi cercherò di essere rapido anche nei combattimenti. Allora prendiamo il pugnale, come al solito, che è la nostra arma preferita, e togliamo lo scudo, che è praticamente inutile. Inutile non per tutti, ma per il mio stile di gioco sicuramente. Cercherò di non operare tagli, perché le partite durano 10 minuti e, ripeto, sono abbastanza esperto, almeno di questa prima sezione del gioco, da non crepare troppo. Cioè non vuol dire che non creperò, eh, assolutamente. Però ecco, riesco a fare le combo, quindi riesco ad ammazzare molto prima, e tante belle cose. Ciao ciccio, ciao ciccio. Bello di spalle, lui bello di spalle, che però non si fa ammazzare. Non si è fatto backstabbare. Allora, io raccoglierò comunque le pergamene, quindi potrete leggere. Se vorrete, eh, perché non è obbligatorio leggere tutto, 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 tuttone. Questi hanno sentito qualcosa, ma non sono io, perché si sono mossi in una direzione abbastanza strana. Boh, non lo so. Cerchiamo di backstabbare questo. Secondo me è abbastanza facile. No. Però. Oh. E' meglio stare attenti a questi tizi, perché ci sono elementi dello scenario che danno fastidio agli occhi. Ti si mettono sulla tua linea visiva e non ti fanno vedere una ceppa. Yes. Abbiamo ancora poca energia, diciamo, e... E' anche pochi HP, quindi basta l'attacco giusto che ce ne andiamo al creatore. Ah, è vero! Nella prima run avevo anche trovato sta roba. La trovi combattendo in questo modo, quindi spaccando muri. Uh, vediamo un po', che cosa c'è? Bottiglia vuota, ottimo, già abbiamo preso un'altra pozione. E questo? Questo non si apre, giustamente. Qui c'è qualcosa, non voglio lasciare indietro niente. So che è una run che dovrebbe essere rapida, però... L'esplorazione non voglio assolutamente lasciarla da parte. E qui trovi un sacco di cose esplorando. La bottiglia vuota è una manna dal cielo. È praticamente la possibilità di ricaricare gli HP una volta in più. Allora, sì, qui sembra tutto ok. Dobbiamo andare da questa parte. Right. Vaffan... Madonna. Schifoso proprio. Lurido. Questi sono morti, credo. No, non sono morti. Vabbè. Leggete se volete, io li raccolgo sempre per voi. Oh, 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 ciccio. Bella questa combo, mi piace un sacco. Dovrei fare anche qualche combo con i colpi pesanti. Ma non mi viene spontaneo. Sono abituato a colpire quasi sempre con colpi molto leggeri. Anche i boss, per dire, eh. Ah, per madonna, pensavo fosse morto. Infatti mi stavo chiedendo, come ha fatto a morire? Una sola combo e mi muore il rogar. Là. Ah, eh, così muori però. Sventration. Sventration di certi livelli. Oh. Allora. Frammento di energia. Frammento di energia non li ho mai usati nella prima run finché non sono arrivato al maledetto boss del cimitero. Probabilmente non avete presente questo boss se state seguendo questa run per la prima volta, ma è un gran bastardo. E' molto resistente. E quindi più stamina avete, meglio è. Ci alziamo? Alziamoci su ciccio. Abbiamo preso anche la chiave, quindi adesso possiamo là. Frammento magico. Frammento magico, se non erro, dovrebbe ripristinare più rapidamente il nostro mana. Non vorrei sbagliarmi però. Allora, do un'occhiata al tempo. Ok, ok. Ce la potremmo fare. Ce la potremmo fare con il boss, eh. Saltiamo i convenevoli. E scriviamo il suo primo attacco. Oh, oh, oh. Ok. Che poi è un attacco con lo scudo. Non ci farebbe danni. Però è comunque una rottura di scatola essere sbalzati via. A me non piace. Poco onorevole. Oh. Questo invece era proprio un colpo. Non ricordo molto bene la sua routine. Però. Bene. Non è particolarmente forte questo boss. Cioè, la forza ce l'ha. Però è anche lento. Uh. Gli ho spaccato un po' l'armatura. Beh, che facciamo? Caricami su. L'ho mandato dal carrozziere, praticamente. Eh beh. Adesso vuoi attaccare, ma... Quando va a vuoto con certi attacchi, è il momento di fargli male. Adesso due. Sempre con questo mi prende, però, eh. Perché ha un timing leggermente più crudele rispetto a questi attacchi. Adesso inizia il suo maledetto spogliarello. Bevi, Arkin. Bevi. Cerchiamo di concludere questo gameplay nel tempo che ci siamo prefissati all'inizio. E là. Sì, sì. Sì, sì. Eh no, ma preso. Mastardo. Guardalo, guardalo, guardalo. Che palle. Ok, adesso... Adesso le prende. No. Eh dai, ma come cavolo ha fatto? Che poi quell'attacco quasi ti one-shotta. Non so se avete notato. Sì, sì. Eh vai. Ok, adesso sono problemi. Perché parte con il suo maledetto balletto di danza classica. Dovrei fermarti prima o poi, ragazzo. Su. Dai, dai. Un'altra mossa di quelle. E io e te abbiamo chiuso, figliolo. Ah... L'odio. L'odio per questa combo. Perché è interminabile. E mica per altro. Ok, oh, che culo. Sì, ok. Bene, 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 bene. Non siamo neanche troppo fuori tempo, secondo me. Anzi, abbiamo ancora tre minuti. Anzi, no, che tre minuti. Abbiamo un minuto da dedicare a questo gameplay ancora. Porca miseria come vuole il tempo quando si massacrano i boss. Queste parti non sono schippabili perché ci fanno vedere Archie che si carica di nuova energia, anzi di nuova esperienza. E va bene, e va bene, e va bene. Sono stati dieci minuti piuttosto intensi. Ho fatto un bel po' di stupidaggini, ma fortunatamente nessuna delle quali mortale. Allora, qui dobbiamo trovare Caslo. Caslo è il tizio con la tunica di cui non ci siamo preoccupati affatto dall'inizio del gameplay. Salviamo. È perfettamente imbattuta. Arriva il timer. Ok, ragazzi. Fatemi sapere se questo nuovo modo di giocare vi piace e al prossimo gameplay. Ok.